E buongiorno mondo, è tutto buio e noi stiamo andando all'aeroporto Ore 5.46, al parcheggio siamo arrivati, parcheggio P1 di Malpensa abbiamo lasciato l'aberta La cima è qua, faccia agitatissima, ha paura di volare, invece a me piace volare E' da un sacco di anni che non voliamo più Perché sei agitata? Perché hai paura di volare E a Budapest siamo arrivati, siamo appena arrivati in aeroporto a Budapest Ma prima di tutto volevo dirvi che non tutti sanno che, come dice la settimana enigmistica In giro per tutta Budapest ci sono collocate e piazzate, nascoste, qualcuna che viene nascosta Delle mini statuine realizzate dallo scultore Olotko Boh, non sappiamo bene come si dica E all'aeroporto c'è già la prima, vedremo quanto riusciremo a trovarle in questi giorni Il nostro scopo di questi giorni sarà proprio, e appunto, cercare tutte queste statuine Ce ne sono una quarantina in giro per Budapest Questa è la prima Lid All'aeroporto per arrivare in città è comodissimo prendere il 100e Tramite la portazione si compra il biglietto, lo validi col QR code e via diretti verso il centro città Tra l'altro la fermata è a 400 metri dal nostro bimbi, quindi siamo fortunatissimi Si va Il check in al bimbi dovremmo averlo alle due e mezza e sono le 10 ma visto che, come vi dicevo, il pullman ci ha lasciati a 400 metri dall'ingresso del bimbi Quanto hai battuto le ali Il nostro piano malefico di entrare a fare il check in prima del previsto non è andato proprio a buon fine Quindi adesso stiamo andando a cercare un posto per prendere un caffè, una birra, non lo so, adesso decideremo Far passare un po' di tempo e riprovarci, magari telefonare direttamente alle persone del bimbi E vediamo se ci dicono che possiamo fare il check in prima, se no ci finiremo le borse, l'altro sono leggere E andiamo in giro così Se vi ricordate la questione delle statuine? Ne abbiamo già trovata una vicino al nostro bimbi Guardate quanto è piccola, questo è un palombardo Simona, Simone Yes Ok Alla fine come avete visto siamo riusciti a fare il check in anticipato Ci hanno risposto al messaggio che gli abbiamo scritto e ci hanno fatto gentilmente venire prima La stanza è veramente piccola come immaginavamo ma l'abbiamo notata, l'abbiamo vista dalle foto Ma a livello di pulizia rispetto alle foto che ci sono sul sito è decisamente più scarsa Ma va bene, va bene così per il poco che abbiamo pagato Comunque questo qui è il mini bagno Come potete vedere Non è il top Però Tanto dobbiamo andare sempre E comunque in giro Adesso vi faccio vedere come si sale Questa scaletta Qui c'è la Simo che sta già disfando la sua valigia O meglio il suo zaino Stai già facendo caos Sì Va bene Ci prepariamo, usciamo? Sì Bene Siamo in giro Oggi come primo giorno ci siamo dati la libertà assoluta Qualche giro Così un po' a caso giusto per iniziare a gustarci la città E da domani invece si mena secco E si cammina di brutto Simo E invece? Invece il cavo Si deve sempre camminare Stiamo girando da più di mezz'ora dentro al Simpracert Uno dei ruin bar più famosi di Budapest Budapest è famosa anche per avere diversi ruin bar Quindi bar costruiti all'interno di ex fabbriche abbandonate Edifici abbandonati Un po' autogestiti credo che siano Sono diventati un po' il simbolo della città Ma sono fantastici di giorno come stiamo facendo noi adesso Sono girabili Vedremo questa sera Tanto il B&B è proprio qui dietro Vediamo come si riente di vita Birra Lei mi sta guardando così perché comunque ha fame Siamo venuti qua e stiamo girando da più di mezz'ora E non l'ho ancora fatta mangiare e bere Quindi Dai colazione infatti ha mangiato una veloce schifosissima Va bene andiamo perché sennò questa mi mangia un braccio come al solito Mangiare abbiamo mangiato E non diciamo altro perché sì Diciamo che ci siamo saziati Senza grossa qualità Ci siamo contentati di uno burger E delle patatine Una birretta Ma giusto perché Altrimenti questa qua sarebbe impazzita E mi avrebbe mangiato davvero braccia e gambe E niente Adesso ci stiamo dirigendo Pian pianino Verso il castello Per il quale non vi pronuncerò il nome Perché non so neanche in pronunciarlo Ve lo scriverò qua sotto E' un castello finto Ricostruito Ma adesso andiamo a leggere bene La vera storia di quel castello Vista da qui Circa 3 km Che faremo totalmente a piedi E nel frattempo Salteremo Da una strutturina All'altra Giusto per allungare un po' La strada Così lei è felice E contenta di camminare Tutti questi chilometri Va bene Vi faccio vedere anche qualche Urales nel frattempo Che sono Là in fondo Ma adesso Ve li fa vedere meglio lei Che li riprende Mannaggia Mannaggia I strati dai murales Qua dietro Ci stavamo perdendo La statuina Che è qua Attaccata al muro Simo Sei passata di qua apposta E? L'abbiamo persa Alla fine no Guardala lì Alla fine no Alla fine no le altre statuine erano molto belle ma questa è simpaticissima guardate un po c'è garfield al posto del muso del cane siamo arrivati al museo etnografico una struttura architettonica fuori di testa perché l'avevamo già vista nelle foto e nei video di altra gente ma non pensavo che fosse così esagerata praticamente la struttura si sviluppa come una grande salita da questo lato e prosegue anche da questo lato è come se la struttura si andasse a nascondere sotto terra aspettiamo vediamo se riesco a farvelo vedere guardate il museo inizia da là si nasconde sotto terra qua e ricompare di là la cosa bella che è la sopra si può andare camminare prendere il sole e adesso io ci andrò e non so se riesco a comincere la simo a fare tutta quella salita per arrivare la sopra tu ci vieni stai qui a fumare vero va bene allora vado da solo mi abbandoni mannaggia aspetto all'opera però qui nella zona del museo dovrebbe esserci un'ennesima statuina di quelle in miniatura quella che si chiama among us ed è uno skateboard con solo i piedi con le ossa che vengono fuori i moncherini e la simo diceva che a sentimento si trova in un punto il simo diceva si trovava in questo punto dove siamo ora la simo invece diceva no non è vero scommettiamo non lo vede perché è guardata guarda non lo vede guardatela lì la faccia della disperazione il gioppino aveva ragione perché eccolo qui among us questi sono due stivali dopo ti racconto la storia va bene simo però la scommessa chi l'ha vinta e quindi chi paga da bere stasera nooo non l'ha mai detto pagli da bere si si hai detto scommettiamo quindi una scommessa almeno minimo una birra minimo allora qua tu dove dici che l'avremmo trovata? lì di là? no e invece qua birra questa sera? la piazza degli eroi è la più grande e iconica piazza di buda spese ospita il monumento del millenario il monumento fu progettato nel 1896 per celebrare il millenario della conquista maggiara del bacino incappato e dopo la spiegazione pressapochista fatta dalla simo di piazza degli eroi leggendo leggeramente la guida lolly planet pocket abbiamo deciso di prendere un pullman per spostarci non più a piedi prenderemo un 75 e visto e considerato che siamo ormai bolliti perché ci siamo alzati questa mattina alle 4 e mezza abbiamo già fatto quasi 24 mila passi ci meritiamo un po' di relax e andiamo non alle terme ma al museo del flipper a giocare come i matti come i bambini quindi vi faremo vedere com'è non sembra contenta alla simo di andare al museo del flipper siamo arrivati finalmente al museo del flipper sentite che casino di palline e tilt e palle bonus e multiball e adesso ne proviamo un sacco e poi decideremo su quale sfidarsi io e lei chi perderà pagherà la birra all'altro lei è già in debito di una birra per la ricerca delle statuine e vediamo se ne perderà un altro o se andremo al pareggio buon'è in testa lei è quella che non voleva venire al flipper museo e adesso sta giocando a tutti i flipper che trova anzi disperata quando trova quelli che non funzionano ae 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 la faccia della sconfitta è brutto pronta ma dai vai di là la sconfitta 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 una piccola considerazione del museo del flipper ovvio non è uno di quei posti che uno si prefigge di andare a visitare quando va a visitare budapest ok ma quando si hanno più giorni ve lo consigliamo se avete più giorni avete un pomeriggio un paio d'ore da buttare via almeno io lo consiglio tu lo consigli perché è divertentissimo non è economico perché paghi comunque 12 euro 80 13 euro per l'ingresso ma poi puoi giocare a tutti i flipper videogiochi tutto quello che c'è lì dentro ci sono dei flipper del 1950 cose invece molto più moderne ma le sfide sono la cosa più divertente soprattutto quando le vinco io quando le vince lei un po' meno però però si merita il giro il museo del flipper ma ovviamente non se avete due giorni da dedicare a budapest non buttate due ore lì dentro ma però se avete più giorni e avete un momento nel quale volete rilassarvi divertirvi andate a visitarlo perché merita noi stiamo tornando perché siamo bolliti in piedi dalle 4 di stamattina e abbiamo mangiato di nuovo al volo domani se la riprendiamo un po' più in calma e iniziamo a visitare veramente quindi vi diamo la buonanotte adesso vi diamo la buonanotte adesso e buonanotte a tutti a domattina e vi 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 vi